Mi amici di Santina, come vedete sono qui con FAMI, guardate quanto è cresciuto e come sta bene. Gli adolescenti crescono molto velocemente, è venuto da Ramalla oggi per salutarvi e per darvi gli auguri di buon anno. Insieme a tutti gli amici di Santina voglio ringraziare anche Franca Giassoldati per l'introduzione al libretto di FAMI con il quale lo stiamo aiutando. Guardate qui, la ferita si è ben rimarginata, si può vedere bene e siamo molto contenti che abbia ripreso la sua vita regolare. Come vedete alle nostre spalle il luogo dove lui è stato ferito è sempre presidiato da militari e da soldati. Vivere a Gerusalemme non è facile, vivere a Gerusalemme è molto duro e come in Messico FAMI è vittima di violenza, una violenza di cui lui non ha nessun motivo di essere coinvolto. Proprio per questo noi lo ringraziamo per la sua grande forza e ora FAMI vuole dirgli Happy New Year, Buon anno 2018. Puoi dire al tuo amico Happy New Year con la tua voce. Happy New Year. Happy New Year. Ok, mi dà un grande saluto. Grazie a tutti voi, un grande saluto e aiutateci ad aiutare FAMI. Grazie a tutti e buon anno anche con i soldati alle nostre spalle. Ciao.